Ciao, bentornato sul canale YouTube dell'Associazione Culturale Maggiolina. Come sai, recentemente mi sono appassionato all'uso di Instagram e ho iniziato a pubblicare un po' di foto e devo dire che mi diverto a pubblicare delle mie fotografie, ma anche e soprattutto a vedere e a seguire i miei personaggi dello sport, in questo caso preferiti. Per cui ne ho parlato, abbiamo visto come si fa ad iscriversi ad Instagram e qui in alto sulla i metterò il rimando a quel video nel caso tu te lo fossi perso, così lo puoi seguire, ma oggi desidero approfondire l'argomento. Recentemente nel gruppo di lavoro del mercoledì sera, in conferenza col gruppo di lavoro del mercoledì sera, ci siamo detti, perché è capitato a noi, sicuramente anche ad altri come a noi capiterà di essersi iscritti ad Instagram più volte, cioè nel cambiare computer, nell'inserire le password e tutto, mi sono trovato che mi sono iscritto ad Instagram un'altra volta o altre due volte. E questo non va bene, a me piace essere iscritto, usare Instagram, ma come un'unica persona, altrimenti se ci sono tre o quattro Daniele Castelletti, tutti quanti che fanno riferimento a me, non è il massimo, diventa una cosa difficile da gestire. E allora ci siamo detti, si può cancellare un account Instagram? Sì, si può. È semplice. Può non essere semplice trovare il modo per farlo, perché ovviamente chi fornisce questo servizio Instagram naturalmente è dispiaciuto dal fatto che un utente lo lasci, ma in questo caso vogliamo toglierci da una doppia iscrizione e quindi è sicuramente positivo anche per loro. Comunque, a prescindere, posso cancellare un account Instagram in maniera definitiva. Vediamo come fare. Allora, innanzitutto apro il mio browser internet. Eccomi qua, l'ho aperto, mi si è aperto sullo schermo a fianco, l'ho riportato dentro e sono qui. Allora, adesso voglio andare ad usare Instagram. Quindi vado là in alto e scrivo www.instagram.com e premo invio. In questo modo arrivo sul sito. Bene, arrivando sul sito, io mi trovo già nel mio account dan.castelletti, quindi la mia presenza su Instagram è dan.castelletti, per cui mi farà piacere se tu mi cercherai e se deciderai di seguirmi, diciamo, nelle mie, tra virgolette, avventure fotografiche. Ok, quindi io sono entrato e sono qui. Allora, innanzitutto c'è da dire che per cancellare l'account Instagram bisogna essere loggati, cioè bisogna già aver fornito la password ed essere entrati nel proprio account. E in questo caso lo sono, perché già figuro come dan.castelletti sono entrato. Però, nel mio caso specifico di adesso, non è questo l'account che devo cancellare. Cioè, questo è quello mio, ufficiale, quello che utilizzo abitualmente e che voglio tenere. Quindi, devo uscire da questo account, e questa parte è molto importante, devo uscire da questo account ed entrare eventualmente in quello che voglio cancellare. Per cui, decido di uscire. Clicco sull'omino che raffigura l'account della persona, qui vedo la mia iscrizione, i miei follower, i miei post, le mie foto, eccetera, eccetera, ma io voglio uscire. Quindi, ingranaggio, esci. In questo modo sono uscito dal mio account Instagram. Sono rimasto su Instagram, ma questi non mi conosce, non sa chi sono. Questa è la pagina generica nella quale si arriva quando non si è loggati, quando non ci si è fatti riconoscere. Il mio computer mi aveva loggato automaticamente perché io avevo memorizzato le credenziali e quindi lui era in grado di rientrare da solo, senza che io le fornissi tutte le volte che volevo entrare. Bene, allora, qua sotto c'è da compilare varie cose, accedi con Facebook, iscriviti, e queste sono le cose che creano problemi, cioè è seguendo questa strada erroneamente che ci siamo iscritti più di una volta. Noi ora vogliamo toglierci. Qui c'è la voce, hai un account, accedi. Ecco, questa è quella che devo usare. È quella che avrei dovuto usare all'inizio sul computer nuovo. Mi bastava fare accedi, io entravo Instagram ed ero a posto. Ora, invece, la devo usare per entrare nell'account doppio che mi sono accidentalmente creato e da lì cancellarlo. Allora, dico accedi. Devo fornire le mie credenziali, quindi qua dentro devo farmi identificare e nel mio caso l'account che desidero cancellare è uno di prova che ho usato così per fare i video, per fare delle prove. Ora lo toglierò. Quindi clicco, io mi ricordo l'indirizzo email o dovrei ricordarmi l'ID, l'identificativo, il nome account. In questo caso ho già memorizzato corso tablet5-gmail.com che è il mio indirizzo email, quello che ho usato per iscrivermi. La password dovrei digitarla. Ora è già stata memorizzata, quindi è apparsa da sola senza che io la debba scrivere perché avevo chiesto di memorizzarla, quindi lì sono a posto. e poi dico accediti. Se non riesci ad accedere perché ti dice nome utente o password errati, devi per forza restare concentrato e insistere su questi due fattori. Se ti dice che sono errati uno dei due o entrambi non sono giusti, non sono quelli di accesso a quell'account. Rimani concentrato su quello, non pensare che sia lui a sbagliare. Se non ti fa entrare è perché uno delle due credenziali non sono corrette. Quindi in questo caso devi riprovare finché te le ricordi, le azzecchi, o nel caso disperato vai su hai dimenticato la password e in quel caso fornendo il nome dell'account ti invieranno un'email con la possibilità di resettare la password. Ma adesso per il video di oggi facciamo che sappiamo le nostre credenziali e quindi che tutto procede liscio. Ci sarà un altro video sempre su questo argomento in cui invece vedremo quando capita qualche intoppo e quindi come recuperare la password e come eventualmente salvare tutte le foto, tutti i nostri dati, se volessimo, che abbiamo memorizzato su Instagram. Oggi non ci serve perché abbiamo detto che simuliamo un doppio account. Mi sono riscritto per sbaglio due volte e questo lo cancello, lo butto via e non ho niente da salvare. Quindi facciamo la cancellazione semplice. Per cui devo fornire qui le mie credenziali. Dico accedi a questo punto lui mi fa entrare, mi farà entrare nel mio account. Ed eccomi qui. Quando sono entrato c'è anche la normativa sui nuovi aggiornamenti sulla privacy, sul trattamento dei dati. Potrei dire leggi ora ma non sarebbe quello che voglio. Non è che voglio leggere o poi tanto lo cancello. Quindi provo a vedere se mi fa saltare questa fase cliccando su Instagram ed eccomi qua. E quindi io arrivo in una schermata dove ci sono sempre io dove vedo foto di alcuni utenti che seguo a me preferite dove c'è qualche mia foto e quindi dici ma questo è il mio account. Eh sì, questo è il mio account però è quello doppio. Quindi è facile che assomigli all'altro. L'importante è non fare confusione. Io nel mio caso riconosco dalla foto che questo non è il mio account ufficiale ma è quello che voglio cancellare. Per cui fare molta attenzione a cancellare l'account giusto. L'importante è entrarci dentro. E io ci sono entrato e adesso qui con comodo il computer arriverebbe a mostrarmi foto eccetera. Sta scaricando non so perché impieghi così tanto ma a un certo punto arriverà. Però io intanto posso proseguire per la mia strada. Per cancellare l'account devo andare ad una pagina speciale di cancellazione dello stesso. E devo dire che trovarla non è facile perché ovviamente Instagram non è che abbia tutto questo piacere al fatto che noi decidiamo di cancellarci e abbandonare la piattaforma. Io l'ho trovata su internet non ho trovato dei passaggi schiacciando dei bottoni per raggiungerla e può darsi che ci sia ma so che è stato per me più facile cercarla su internet ora ve la dico così anche voi potete raggiungerla direttamente. Ed è questa. in alto dove c'è l'indirizzo http www instagram.com faccio un primo click per posizionarmi lì faccio un secondo click per togliere il blu e per avere il cursore lampeggiante in quella posizione in quella posizione perché io scriverò completerò l'indirizzo per andare nella pagina di cancellazione. Allora devo digitare lo slash la barretta che trovo sopra il numero 7 ignoro quello che appare in completamento automatico cioè la cosa blu che è venuta fuori adesso è venuta fuori perché io c'ero già stato a quell'indirizzo lì lo ignoro io vado avanti per la mia strada per l'indirizzo che desidero scrivere per cancellarmi e questo indirizzo è account account con la s accounts slash quindi di nuovo la barretta remove slash barretta request barretta permanent eccolo qua poi qui sotto farò apparire bello in chiaro e bello in grande l'indirizzo quindi www.instagram.com slash accounts slash remove slash request slash permanent ora premo invio per andare a quell'indirizzo eccomi qua arrivati a questo punto vogliono sapere perché desidero eliminare l'account quindi clicco questa lista e qui puoi scrivere quello che vuoi io dico tranquillamente ho creato un altro account in modo che si sappia che questo è è un doppione e siamo a posto di fatto vogliono sapere perché me ne vado devo digitare la password e devo necessariamente saperla questa per evitare che qualcuno cancelli l'account a nome tuo e poi dico elimina il mio account in modo definitivo sei sicuro di eliminare vuoi confermare certo confermo dicendo ok bene il tuo account è stato rimosso ci dispiace che tu te ne vada perfetto e quindi io sono uscito dal mio account Instagram questi è stato rimosso e non è più neanche ricercabile quindi chiunque dovesse cercare quell'account non lo troverebbe ora se voglio posso dire accedi ed accedere nel mio account precedente e quindi non entro più in quello lì ma vado in Dan Castelletti e dico accedi ed è come qua nel mio account devo dire che solitamente queste procedure di cancellazione vengono modificate nel tempo per cui ad oggi è ancora possibile cancellarsi in questo modo per cui se hai un doppio profilo ti invito a provvedere in futuro dovesse cambiare la procedura segnalamelo nei commenti e vedremo di trovare e pubblicare eventualmente quella nuova ti ringrazio per la visione se ti è interessato e piaciuto il video metti un mi piace e mi raccomando se ancora non lo hai fatto iscriviti al canale ed accendi la campanella per non perdere i miei video futuri a presto ciao ciao Grazie a tutti.